del pallone, Gustavo, ottimo questo lancio in pronunità per Caputo, Caputo il tiro ed il gol! Finalmente il pareggio ed è il 2 a 2 l'iniziativa di Gustavo e la conclusione al formicotone di Caputo che trafigge il portiere sulla sua destra per il gol del 2 a 2 che rivediamo Caputo colpisce male poi controlla di destro e piazza.